VITAMOZUO gruppi telegram fissati nel primo commento quindi questo qua sarà l'outfit che andiamo a salvare una volta che ovviamente partiamo dal primo personaggio facciamo option online e andiamo su cambia personaggio ok ragazzuoli dobbiamo adesso andare sul secondo personaggio se non ce l'avete mi raccomando dovete crearlo donna se invece ce l'avete donna dovete sapere che appunto dopo lo andiamo a eliminare ok quindi secondo personaggio donna lo andiamo a selezionare ok ragazzuoli a volte che spawniamo col secondo personaggio andiamo in un negozio qualsiasi sulla mappa io mi sono recato in questo negozio qua se ovviamente non vedete nella mappa i negozi di outfit cambiate semplicemente sessione io mi sono recato in questo partiamo subito da qua inizia il divertimento allora ragazzuoli andiamo a fare innanzitutto il primo outfit sul primo personaggio sono 5 slot per ogni outfit da riempire sulla donna per avere poi 3 outfit moddati ovviamente sul primo personaggio allora iniziamo subito e facciamo i joggers verdi ovviamente con l'outfit tutto quanto moddato ok allora andiamo dal primo quindi questo qua è il primo ve lo faccio vedere quindi ci sono completi salvati ci sono questo che è il primo ok quindi sono 5 slot poi c'è questo che è l'arancione sono altri 5 slot poi c'è questo che sono sempre 5 slot per il viola partiamo subito quindi dal primo innanzitutto dobbiamo andare freccia destra su completi standard e mettere la cica ok una volta che indossate la cica su completi standard dobbiamo andare subito su accessori andare a mettere questi guanti mi raccomando importantissimo quindi corazzati bianchi e verdi dopodiché dobbiamo andare a mettere la collana questa qua che ormai conoscete che ci darà il beige della IA quindi 11 su 29 di perle bianca perfetto quindi andiamo a salvare subito il primo quindi questo è il primo già fatto quindi andiamo a salvare e lo salvate sul secondo slot come 1 green ad esempio adesso andiamo a prendere il secondo quindi secondo green andiamo a prendere questo qua freccia destra dalla cassiera andiamo a prendere subito su 29 29 su 52 i completi da babbo natale quindi completo da babbo natale andiamo a indossare il primo quindi babbo natale cattivo mi raccomando babbo natale cattivo ok dopodiché cerchio 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 dobbiamo ritornare sugli accessori freccia destra andiamo questa volta su orecchini andiamo a mettere il 40 su 44 ok dopodiché ragazzuoli ritorniamo su guanti e andiamo a mettere i corazzati bianchi e verdi perfetto a questo punto ragazzuoli andiamo a salvare questo qui nel secondo slot che sarà ovviamente il terzo come vedete 3 su 20 e lo andiamo a salvare prima di continuare sull'altro quindi sul terzo vi voglio far vedere un'altra cosa torniamo solo un secondo indietro andiamo su il primo che abbiamo fatto mi raccomando assicuratevi che sul primo non ci sono gli orecchini ok quindi andiamo direttamente sul terzo a questo punto terzo dobbiamo andare sempre negli accessori quindi assicuratevi anche se ci sono assicuratevi che ci sono gli orecchini giusti e quindi il 40 su 44 poi andiamo su guanti dobbiamo andare a mettere il 2 su 62 quindi i guanti sono sempre gli stessi ok dopodiché andiamo su pantaloni quindi pantaloni andiamo su pantaloni cargo ok pantaloni cargo scusate pantaloni sportivi non pantaloni cargo quindi 4 su 19 e andiamo a selezionare 1 su 54 perfetto andiamo invece adesso sulla parte superiore quindi andiamo a prendere la parte superiore e andiamo su 26 su 67 fate attenzione a queste parti 26 su 67 andiamo poi su tren su 70 quindi 3 su 70 ok guardate sempre il numero anzi il nome e non il numero perché potrebbe cambiare dopodiché andiamo alle scarpe molto importante anche questo scarpe andiamo su 18 su 19 dopodiché andiamo a prendere il 23 su 32 ok quindi queste qua 23 su 32 bordeaux slacciati perfetto a questo punto andiamo ovviamente a salvare anche questo slot andiamo a salvare e andiamo ovviamente a metterci il terzo ok a questo punto ragazzuoli ci andiamo a prendere il quarto slot quarto slot vi consiglio anche siccome siamo in una pubblica di abilitare la modalità passiva andiamo quindi sul quarto slot continuiamo con il quarto green ok quarto green dobbiamo andare nelle parti superiori quindi parti superiori andiamo su 13 su 67 13 su 67 quindi giacche da lavoro e andiamo a mettere il 38 su 46 poi una volta cerchio sempre parti superiori 27 su 67 quindi 27 su 67 magliette da trafficante e andiamo a mettere il 60 su 60 i pantaloni rimarranno sempre gli stessi ma verificate sempre quindi pantaloni sportivi e andiamo su 1 su 54 ok quindi 4 su 19 e 1 su 54 dopodiché le scarpe rimarranno sempre le stesse ma voi andate sempre ovviamente a verificare quindi 18 su 19 e poi 23 su 32 ok quindi 23 su 32 perfetto a questo punto ragazzuoli dobbiamo andare su accessori di nuovo per verificare sempre gli orecchini e i guanti fatelo sempre anche se ce l'avete vi consiglio di farlo perché così seguite lettera per lettera tutto il video quindi orecchini 40 su 44 e poi guanti andiamo su 2 su 62 perfetto questo è il quarto slot dei joggers dell'outfit modati dei joggers verdi e quindi lo andiamo a mettere ovviamente sul quarto perfetto andiamo sull'ultimo slot dei joggers verdi quindi andiamo sul 5 e qua dobbiamo fare sempre ovviamente accessori mi raccomando orecchini quindi freccia destra andiamo su orecchini andiamo 40 su 44 poi dopodiché sempre guanti mi raccomando quindi guanti 2 su 72 perfetto quindi mi raccomando sempre mi raccomando sempre dovete verificare queste cose a questo punto ci spostiamo su copri capo ok quindi che si trova da questa parte freccia destra andiamo su 4 su 31 dopodiché dobbiamo andare a prendere il 20 su 104 perfetto andiamo sempre anche sui pantaloni quindi andremo su pantaloni andiamo su pantaloni sempre gli stessi 4 su 19 e 1 su 54 andiamo di nuovo su scarpe ok quindi scarpe questa volta su scarpe di nuovo sempre le stesse quindi cambiamo praticamente solo la parte superiore ragazzuoli 18 su 19 e poi dobbiamo andare a prendere il 23 su 32 ok facilissimo ok seguiti il video dall'inizio alla fine perché ci sono ovviamente parti che dovete vedere per intero andiamo sempre sulle parti superiori dobbiamo andare questa volta su 4 su 67 quindi giacche aderenti andiamo a mettere questo qua 11 su 34 una volta cerchio poi dopodiché andiamo 60 su 67 e andiamo a mettere la camicia sotto la giacca e sotto il giubbotto antiproiettile 16 su 18 poi facciamo cerchio 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 prima di andare in cassa andiamo su inventario giubbotto antiproiettile andiamo a mettere il giubbotto super leggero ok quindi questo qua perfetto andiamo ovviamente in cassa e abbiamo finito i joggers verdi quindi lo slot 5 a questo punto continuiamo e andiamo invece sul l'ottavo slot sul primo dei joggers arancioni quindi lo andiamo a prendere andiamo a prendere quindi il primo dei joggers arancioni come prima ragazzuoli stessa identica cosa freccia destra andiamo su completi standard e andiamo a mettere la cica ok poi da qua dobbiamo passare sempre negli accessori quindi andiamo come prima ragazzuoli identico come prima andiamo su accessori e andiamo su collana andiamo a mettere le collane andiamo a mettere sempre la collana 11 su 29 quindi di perle bianca dopodiché andiamo su guanti quindi guanti sempre gli stessi corazzati bianchi e verdi ok quindi guanti e collana dopodiché il primo è già fatto quindi primo slot dei joggers arancioni sono fatti andiamo con quadrato e andiamo ovviamente a salvare sull'ottavo slot lasciate sempre uno spazio tra uno e l'altro quindi ottavo slot ok passiamo avanti allora andiamo sul secondo slot dei joggers arancioni andiamo secondo slot dobbiamo fare la stessa identica cosa di prima freccia destra 29 su 52 ma questa volta fate attenzione perché dobbiamo andare su completi babbo natale ma prendere quello di babbo natale sporco perché ci darà ovviamente i joggers arancioni mi raccomando fate attenzione a questa parte perché sono fatti un casino che non vi dico ok quindi andiamo a prendere questo ovviamente di qua dobbiamo fare la stessa identica cosa di prima quindi andare su accessori freccia destra andare quindi a questo punto su orecchini andare a selezionare questi orecchini qua 40 su 44 quelli che abbiamo selezionato prima poi andiamo su guanti e andiamo a prendere i corazzati sempre bianchi e verdi perfetto abbiamo già finito il secondo slot degli arancioni andiamo in cassa freccia destra quadrato e andiamo ovviamente a salvare sul secondo slot degli arancioni andiamo sul terzo velocemente andiamo sul terzo e andiamo a prendere il terzo ovviamente come vedete cambia ma solo la parte superiore quindi andiamo subito a vedere anche gli accessori accessori freccia destra andiamo su orecchini sono sempre gli stessi 40 su 44 andiamo sempre su i guanti sono sempre gli stessi 2 su 62 cambiano le parti superiori quindi andiamo sulla parte superiore io ve lo faccio vedere comunque ragazzuoli per me non è una perdita di tempo perché il video voglio che sia perfetto anche se i pantaloni le scarpe e gli accessori sono tutti gli stessi ve li faccio vedere quindi parti superiori quelli che invece cambiano quindi fate attenzione andiamo su 24 su 67 24 su 67 perfetto quindi parti superiori festive andiamo sulla seconda quindi maglie mi raccomando non magliette ma maglie seconda ok andiamo poi su 26 su 67 andiamo a mettere questa maglia qua perfetto cerchio 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 andiamo dai pantaloni dopo che finisco questo video mi servirà un polmone nuovo può essere andiamo ovviamente sulla parte dei pantaloni andiamo a mettere sempre la solita parte quindi qua perfetto e andiamo quindi qua significa 4 su 19 e andiamo a prendere 1 su 54 scarpe le scarpe questa volta cambiano quindi scarpe 18 su 19 e poi andiamo a prendere il 22 su 32 ok questa volta cambiano 22 su 32 perfetto terzo slot finito andiamo a salvare terzo slot dei joggers ovviamente arancioni premiamo freccia destra andiamo sul terzo slot orange e andiamo a fare a salvare e andiamo a fare il quarto ok quindi quarto slot andiamo sul quarto slot orange perfetto iniziamo subito come vi ho già detto orecchini sempre gli stessi quindi andiamo su orecchini 40 su 44 verificate sempre così rimanete anche a passo con il video poi dopo di che andiamo sempre su i guanti andiamo su guanti e prendiamo il 2 su 62 andiamo su pantaloni che come vedete sono sempre gli stessi quindi freccia destra andiamo su pantaloni 4 su 19 e 1 su 54 dopo di che andiamo su scarpe che le scarpe saranno sempre le stesse quindi freccia destra 18 su 19 e andiamo a prendere dopo di che il 22 su 32 perfetto a questo punto la parte che cambia è la parte superiore quindi parte superiore freccia destra andiamo su 5 su 67 giacchi in pelle e andiamo a selezionare l'86 su 97 una volta poi una volta cerchio andiamo su 30 su 67 30 su 67 mi raccomando seguite tutto il video andiamo su magliette nei pantaloni e andiamo a mettere l'11 su 92 perfetto quarto slot già finito andiamo in cassa freccia destra andiamo ovviamente a mettere sul quarto orange ok l'andiamo a salvare e andiamo a prendere anche il quinto quindi l'ultimo andiamo a prendere il quinto slot quindi stile andiamo su quinto orange perfetto andiamo a fare questo sempre la solita cosa orecchini quindi freccia destra andiamo su orecchini 40 su 44 orecchini poi dopodiché guanti sempre gli stessi 2 su 72 questa volta abbiamo come prima anche il copricapo quindi andiamo su copricapo andiamo freccia destra andiamo a prendere il 4 su 31 e poi il 19 su 104 questa volta ok andiamo sempre su pantaloni andiamo su pantaloni dobbiamo mettere sempre gli stessi ma voi andate a verificare anche perché così rimanete sempre a passo col video quindi pantaloni sportivi 1 su 54 quindi 4 su 19 e 1 su 54 andiamo su scarpe andiamo su scarpe andiamo a selezionare sempre le scarpe 18 su 19 e 22 su 32 ok quindi sempre le stesse 22 ovviamente per l'arancione sempre le stesse 22 su 32 andiamo sulle parti superiori perché anche qua cambiano le parti superiori andiamo su 4 su 67 andiamo a prendere l'11 su 34 giacche queste sono le giacche una volta cerchio andiamo su 60 su 67 e andiamo a prendere il 16 su 18 che sono le camice dopodichè dobbiamo andare col touchpad inventario giubbotto antiproiettile e mettere giubbotto standard ok questo qui verde in cassa e andiamo a fare anche l'ultimo ovviamente outfit che sono sempre 5 quindi andiamo a salvare il 5 orange servirà ovviamente fare gli altri 5 per il viola ok andiamo quindi subito al viola quindi touchpad andiamo su stile primo del viola solita storia di prima quindi non cambia nada de nada abbiamo messo la cica quindi freccia destra con predi standard indossiamo la cica poi andiamo sempre negli accessori andiamo su collane quindi sempre su collane andiamo a mettere l'11 su 29 che mi ci darà ovviamente il beige della IA andiamo su guanti e ovviamente andiamo a mettere i corazzati bianchi e verdi ok quindi 2 su 62 questo ovviamente lo andiamo a salvare nello slot quindi abbiamo adesso il viola 1 perfetto andiamo a fare il viola 2 scommetto che qualcuno già attento sa come farlo perché? perché ovviamente è lo stesso identico il viola 2 andiamo a prendere quindi freccia destra completi di babbo natale quindi 29 su 52 questa volta il più attento sa che dobbiamo mettere l'ultimo ok quindi questo qua dopodiché la cosa che dobbiamo fare è andare sui accessori mettere ovviamente su orecchini il 40 su 44 dopodiché anche i guanti ok quindi i guanti questi qua corazzati bianchi e verdi dopodiché abbiamo finito anche il secondo ok quindi freccia destra quadrato e andiamo sul secondo viola perfetto andiamo a fare il terzo quindi andiamo a fare subito il terzo manca pochissimo ormai quindi stile andiamo su viola andiamo a fare anche il terzo andiamo su orecchini come al solito quindi freccia destra andiamo su orecchini 40 su 44 andiamo a mettere anche i guanti quindi i guanti sono corazzati bianchi 2 su 62 andiamo a mettere sempre i pantaloni quindi pantaloni freccia destra pantaloni sportivi 4 su 19 e 1 su 54 perfetto a questo punto ragazzuoli dobbiamo andare a mettere anche le scarpe quindi andiamo su scarpe andiamo su scarpe quindi 18 su 19 sempre andiamo su scarpe 18 su 19 e andiamo a mettere questa volta il 21 su 32 ok? cambia quindi mi raccomando fate attenzione andiamo sulle parti superiori anche questi cambiano questa volta freccia destra andiamo su 16 su 67 16 su 67 bomber di pelle e andiamo a prendere il 4 su 19 terzo slot per i nostri viola finito andiamo in cassa freccia destra abbiamo il terzo slot finito per i viola passiamo subito al penultimo slot per i viola quindi il quarto andiamo sul quarto perfetto sul quarto passiamo sempre prima di tutto agli accessori anche per chi è qua vicino quindi orecchini 40 su 44 dopo di che sempre guanti andiamo su 2 su 62 andiamo sempre sui pantaloni pantaloni abbiamo sempre i pantaloni sportivi e i pantaloni quindi 4 su 19 e 1 su 54 ve lo faccio vedere sempre ragazzuoli andiamo su scarpe andiamo su scarpe che le abbiamo messe prima ma le andiamo a verificare di nuovo insieme quindi 18 su 19 e poi dobbiamo andare a prendere il 21 su 32 ok quindi easy facilissimo parte superiore ovviamente cambia andiamo subito a vedere parti superiori quindi 13 su 67 perfetto 13 su 67 giacche da lavoro e poi abbiamo il 38 su 46 dopo di che una volta cerchio andiamo su 30 su 67 e andiamo a mettere le magliette nei pantaloni andiamo a mettere il quindi 30 su 67 e poi il 75 su 92 quarto slot finito andiamo a fare l'ultimo dei viola quindi freccia destra andiamo a salvare ovviamente prima ultimo dei viola quindi questo era il quarto passiamo subito al quinto quindi touchpad stile andiamo su quinto io ce l'avevo già preparati ovviamente andiamo sul quinto sempre prima di tutto gli orecchini orecchini quindi 40 su 44 ok quindi orecchini 40 su 44 poi andiamo su guanti e andiamo a prendere il 2 su 72 questa volta come prima ci spostiamo su copricapo ovviamente cambierà quindi copricapo andiamo su 4 su 31 e poi dopodiché 18 su 104 perfetto a questo punto ragazzuoli ripassiamo di nuovo sui pantaloni quindi pantaloni che saranno sempre 4 su 19 e poi 1 su 54 andiamo su scarpe tanto ci avviciniamo poi anche per le parti superiori quindi scarpe andiamo su 18 su 19 e poi il 21 su 32 perfetto a questo punto passiamo nelle parti superiori abbiamo praticamente finito parti superiori andiamo su 4 su 67 giacca aderenti andiamo a prendere l'11 su 34 una volta cerchio dopodiché andiamo su 60 su 67 camice da business e andiamo a prendere il 16 su 18 anche qua dobbiamo andare fare cerchio 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 touchpad andare su inventario andare su giubbotti antiproiettili e mettere il giubbotto questa volta però pesante ok quindi questo qua nero andiamo in cassa ovviamente andiamo a salvare anche questo slot ok quindi andiamo a salvare l'ultimo slot questo qua viola perfetto a questo punto una volta che è salvato ragazzuoli possiamo fare touchpad andare direttamente su ucciditi ok ragazzone a volte di essere spavolato in sessione facciamo option online e ce la andiamo direttamente nel creatore una volta arrivati nel creatore facciamo crea una gara andiamo su tutorial aspettiamo ovviamente che carica la sessione fino a quando ovviamente non arriviamo a questa immagine qua dopodiché facciamo option online e ce ne andiamo su seleziona personaggio ok ragazzuoli fate attenzione a questa parte perché è la parte veramente importante ok ve lo spiego sia per ps4 e sia per ps5 o comunque old gen next gen ok dobbiamo andare su questa schermata qua e premere quadrato per eliminare per eliminare il secondo personaggio quindi verificate assolutamente che sia il secondo personaggio premiamo quadrato facciamo x per accettare scriviamo elimina ok a questo punto ragazzuoli fate attenzione a questa parte veramente fate attenzione perché è l'anima del glitch ok allora se siete da ps4 se siete da old gen se siete ps4 premete solamente cerchio e basta se invece siete next gen ps5 dovete farvi invitare da un amico ok vi fate invitare da un amico ok mi raccomando mi raccomando perché è molto importante come parte vi fate invitare in un'attività da un amico se siete da ps5 si baggerà ovviamente la schermata e vi porterà in storia invece da ps4 ragazzuoli da ps4 ps4 ok premete semplicemente cerchio ok ragazzuoli una volta arrivati in storia basterà fare option online gioca gto online e ce ne andiamo una sessione solo a inviti ok ragazzuoli una volta che siamo respawnati col primo personaggio ce ne andiamo in un negozio qualsiasi sulla mappa ok prima di tutto andiamo a salvare questo outfit perché se non lo salviamo appena cambiamo di stile lo andiamo a perdere quindi andiamo dalla cassa freccia destra quadrato e lo andiamo a salvare sull'ultimo slot ok mi raccomando è importante poi dopodiché una volta che lo salviamo sull'ultimo slot facciamo una volta cerchio andiamo su 38 su 53 quindi 38 su 53 e andiamo a prendere questo outfit qua da motociclista andiamo a prendere proprio il quarto ok lo andiamo a selezionare e lo andiamo a mettere nella parte che ovviamente vi ho fatto lasciare sulla donna libero ok quindi su questo slot qua sul primo dalla donna abbiamo impegnato il secondo quindi mettete qui per i guanti per i joggers verdi poi ci spostiamo nella parte superiore parte superiore dobbiamo andare su 40 40 40 su 58 maglie racing andiamo a prendere la seconda e questo lo dobbiamo invece andare a mettere sulla parte prima ovviamente dei 5 slot delle arancioni quindi guanti arancioni poi una volta cerchio andiamo invece su 12 su 17 e questo lo andiamo a mettere prima invece dello slot dei 5 viola ok quindi se seguite il video su 13 su 20 vi deve uscire i guanti viola quindi quelli di prima che vi ho fatto vedere ok su 7 su 20 i guanti arancioni quindi le parti superiori che ho fatto vedere prima e invece su 1 su 20 questo outfit qua che saranno poi per i joggers verdi allora una volta che abbiamo tutto ciò partiamo quindi dai joggers verdi con questo outfit e facciamo option online attività avvia attività andiamo su preferite andiamo su missioni e andiamo ad avviare a fare G io vi ricordo che a fare G lo potete trovare sui nostri gruppi telegram fissati nel primo commento con il comando slash a fare G ok ragazzone una volta che saremo nella lobby mettiamo abbigliamento completi salvati confermiamo le impostazioni e invitiamo uno dei nostri amici ok una volta che sarà entrato il nostro amico ci posizioniamo su gioca fate attenzione a questa parte ok se avete salvato tutto come me e spero così fate una volta freccia destra una volta freccia destra una volta freccia destra lo faccio proprio di continuo per farvi vedere una volta freccia destra guardate tre green quattro green cinque green e ci mettiamo su pronto a giocare ok una volta arrivati nell'attività dobbiamo andare a salvare il nostro outfit quindi saliamo su un'auto e andiamo in un appartamento qualsiasi io mi ricarò verso l'eclipse tower ok ragazzone una volta arrivati nell'appartamento premiamo freccia destra quadrato ovviamente andiamo a salvare questo outfit nello slot vuoto sotto non vi preoccupate perché tanto adesso gli slot li liberiamo e andiamo proprio a scrivere joggers ovviamente verde ok così lo sappiamo ce l'abbiamo una volta salvato ragazzuoli possiamo ovviamente questo qua mi raccomando fate attenzione a queste parti eliminare questi slot ormai non ci servono più solo questi da qua in poi ovviamente ci serviranno una volta fatto questo qua facciamo cerchio 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 e quitiamo l'attività tornati in sessione andiamo ovviamente a prendere quindi l'altro che abbiamo salvato prima quindi i guanti orange l'altro outfit ce l'abbiamo salvato ovviamente qua quindi guanti orange e andiamo ad avviare di nuovo ovviamente affare g quindi option online attività avvia attività preferite andiamo su missioni e andiamo ad avviare affare g vi ricordo sempre con il comando slash affare g sui nostri gruppi ok arrivati a questa schermata ragazzuoli come prima una volta freccia destra una volta freccia destra una volta freccia destra una volta freccia destra lo ripeto sempre ragazzuoli una volta freccia destra una volta freccia destra fino al 5 orange e ci mettiamo su pronto a giocare ok ragazzuoli come al solito quindi andiamo alle clip stavore premiamo freccia destra con quadrato andiamo a questo punto a togliere questi ovviamente questi slot che non ci servono più ok andiamo su togliere solo quelli orange mi raccomando a selezionare quello giusto quindi da guanti viola lo dobbiamo lasciare stare andiamo ovviamente a salvare su questo slot qua lo andiamo a chiamare joggers orange ok e andiamo ovviamente a sovrascrivere a questo punto ragazzuoli possiamo quittare l'attività e ragazzuoli oltre le spavonate in sessione andiamo su stile andiamo a selezionare i joggers viola orange scusate ce l'abbiamo quindi andiamo su guanti viola partiamo proprio da questo outfit e ritorniamo di nuovo in affare G ok fate sempre attenzione a questa parte dobbiamo sempre premere freccia destra premere freccia destra freccia destra freccia destra freccia destra e metterci su pronto a giocare ok ragazzuoli quindi nostro armadio freccia destra andiamo a salvare anche questo fantastico outfit lo andiamo a mettere dove vogliamo questo qua a questo punto lo possiamo ovviamente cancellare quindi guanti viola il viola il viola mi raccomando fate attenzione perfetto perfetto e andiamo a salvare qualsiasi altro slot quindi lo vado a mettere qua sul primo metterò joggers viola perfetto e ci siamo andiamo su viola andiamo a scrivere ovviamente voi non lo vedete ma io sto scrivendo joggers viola perfetto una volta che abbiamo salvato cerchio 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 possiamo quittare l'attività ok ragazzone a volte respawnati andiamo subito a vedere i nostri outfit quindi abbiamo il bellissimo outfit con i joggers viola giubbotto antiproiettile viola guantoni cinturone beige della IA cappello glicciato e più che ne ha più ne metta andiamo avanti abbiamo anche i joggers arancioni con ovviamente scarpe beige della IA guantoni il cappello dovrebbe essere anche glicciato andiamo subito a vedere tanto una volta che l'abbiamo salvato ce l'abbiamo anche ovviamente voilà si sbaga quindi soltanto cappello e capuccio ma è fantastico lo stesso andiamo subito a vedere l'altro outfit joggers verde fantastico anche questo qua favoloso guardate qua che spettacolo sempre completo di tutto anzi questo qua c'è addirittura anche la pistola quindi beige della IA giubbotta antiproiettile ovviamente verde e tutto quello che più ne ha e più ne metta ragazzuoli se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella ciao a tutti i dag